Sono Elisabetta Piccolotti, di sinistra italiana, siamo la forza di sinistra impegnata più attivamente per il referendum e proviamo a contrastare questa riforma per evitare che si riducano gli spazi di democrazia per i cittadini. A noi interessa che ci sia una partecipazione sempre più ampia, invece questo governo sotto la maschera della velocità vuole in realtà dare tutti i poteri al premio e raggiungere a un rafforzamento dell'esecutivo che serve solo ad approvare più velocemente le leggi non popolari e antipopolari che questo governo ha fatto finire.